Angellina Mambo, voi e tu, a maggio, rappresentate d'Italia all'Euroviversion Contest di Malmo? Sì, a maggio! Grazie a tutti! Angellina Mambo, voi e tu, a maggio, rappresentate d'Italia all'Euroviversion Contest di Malmo? Sì, a maggio! Grazie a tutti! Angellina Mambo, voi e tu, a maggio, rappresentate d'Italia all'Euroviversion Contest di Malmo? Sì, a maggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!